Allora, ora gli anzanotti sono davanti e quando ci sono gli anzanotti davanti è sempre un periodo, lo sai. Allora, anzanotti 1 e 2 davanti, poi c'è Frank, Filippo e io, vai. Si va, e qui? Che fai? Perché? E qui ve l'ho fatto la paura. Ah, sto sbagliato allora. Era meglio di qua, se potessi tagliar qui secondo me. No, qui gli anzanotti ragazzi ci percudano ora, eh. Io ve lo devo. Anzanotti dai meglio di sé qui, eh. Frank, si dà la loro parte qui, eh. Perché io e Filippo con l'anzianotti ci saranno un contenuto spesso. Eh, ragazzi, ma loro... Ora ci lasco io. Sì, sì, onore agli anzianotti che... Ragazzi, più la roba si fa ignorante e più loro sono... Il suo agio, eh. Comunque, anch'io voglio entrare a breve nel club degli anzianotti, eh. Sì, sì, perché... Secondo me... C'è dalle valsi delle soddisfazioni. Che domani! Però sono proprio al loro agio. Oh, qui che cazzo! Sì, sì. 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 Sì, sì.